Per l'influenza è quello che succede tutti gli anni, abbiamo una vaccinazione che viene effettuata in genere durante i mesi autunnali a partire da ottobre che serve per cercare di proteggere dal virus influenzale che generalmente circola nei mesi compresi tra novembre e febbraio, generalmente verso l'inizio dell'anno. Non ci sono grosse novità rispetto alle fasce di popolazione a cui questo vaccino è raccomandato. Nel caso del vaccino contro il Covid non è più la quarta, la quinta o la sesta dose, è qualcosa che si avvicina un po' a quello che siamo abituati a conoscere della vaccinazione anti-influenzale. Cioè è un richiamo che avrà più o meno una cadenza annuale e andrà avanti finché continuerà a circolare il Covid, raccomandato più o meno le stesse fasce di popolazione per cui ha raccomandato il vaccino dell'influenza, che sono persone che sono a rischio non solo per il Covid ma per molte infezioni respiratorie, per cui le persone che hanno un'età a partire dai 60 anni, chi ha particolari malattie croniche e poi ci sono gli operatori sanitari, ma più perché è anche una tutela per le persone fragili che vengono da loro assistite e le donne in gravidanza. L'obiettivo di entambe le vaccinazioni non è tanto proteggere dalla malattia. Chi si è vaccinato è possibile che si ammali, l'obiettivo delle vaccinazioni è proteggere dalle forme più gravi. In questo caso la protezione si estende oltre i 3 mesi, che sono un po' quelli per cui c'è una protezione più rispetto al rischio di ammalarsene, per cui fare un richiamo dell'antinfluenzale, fare un richiamo del vaccino anti-Covid consente di potenziare di nuovo la risposta del sistema immunitario e quindi evitare di avere conseguenze gravi in caso di infezione.